Salve e benvenuto al nostro amico libro che vuole partire dalla drammatica definizione della pace come un intervallo fra due guerre. Partiamo, come amiamo a fare, dalla Sacra Scrittura, dalle Deoniane di Bologna di Andelo Mali dall'atleta incatenato al campione celeste, escatologia e metafora agonistica nella lettera ai filippesi. È appunto Paolo che scrive ai cristiani di Filippi e presentando la sua visione della storia della salvezza e il suo compromettersi. Parla della sua prigionia molteplici volte. Paolo è stato fermato, incarcerato, accusato, è stato anche sottoposto a flagelli. Di che cosa scrive Paolo? Paolo scrive delle ultime realtà, quelle che noi chiamiamo escatologia, fa un quadro di queste ultime realtà accostando la sua biografia, il suo prepararsi alla fine, la morte come un guadagno e quindi quella che con termine greco viene detta adiaforia, cioè la santa potremmo anche chiosare indifferenza, cioè sono pronto a morire, ma se il Signore vuole che io ancora serva la Chiesa non ricuso appunto di vivere. E poi questa lotta per la salvezza è il premio celeste che ci attende. Come sempre una buona sintetica conclusione ci aiuta a sintetizzare ancora questi contenuti. Intanto questa disponibilità, anche se confessa Paolo, dice Paolo, nessuno può dire io sono perfetto. Quindi continuo la mia corsa finché la chiamata di Dio si conclude con la conclusione su questa terra e quindi anche il comportarsi adeguatamente secondo le vicende che il Signore permette. Per descrivere il compimento escatologico Paolo collega le categorie spaziali verticali con le categorie temporali orizzontali, quello che noi diciamo già e non ancora, già avvenuta la salvezza, già operata l'annuncio, ma non ancora completamente, realizzata. E poi naturalmente il premio finale in Cristo Gesù è questo atteggiamento tra l'agonistico, cioè il lottare, il combattere e l'escatologia, il completamento. Perciò dall'atleta incatenato al campione celeste. L'atleta incatenato che lotta e dà testimonianza il campione celeste che sarà. E accostiamo dalle paoline di Giuseppe del Virgilio il sogno di Dio. Giustizia e pace si baceranno. Conosciamo bene questa espressione della giustizia e della pace. Allora un rapido, chiaro, completo, sapore sintetico, percorso, prima nell'Antico Testamento, e si toccano i vari libri, poi nel Nuovo Testamento attorno a queste due categorie fondamentali, giustizia e pace, che naturalmente ci ricordano questa giustizia di Dio che deve compiersi e questa pace che deve essere realizzata. Con tutto il dinamismo, le difficoltà. Leggiamo per esempio almeno un piccolo passaggio. Quando sarà avvenuto lo Spirito Santo dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia, al giudizio. Riguardo al peccato perché non credono in me, riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Ripetiamo un veloce percorso dall'Antico e al Nuovo Testamento che si conclude con una citazione dell'Evangelio Gaudium di Papa Francesco. La Chiesa proclama l'Evangelio della pace ed è aperta alla collaborazione con tutte le autorità nazionali e internazionali per prendersi cura di questo bene universale tanto grande. Nell'annunciare Gesù Cristo che è la pace in persona, la nuova evangelizzazione sprona ogni mattezzata essere strumento di pacificazione e testimonianza credibile di una riconciliata. È tempo di sapere come progettare in una cultura che privilegia il dialogo come forma di incontro la ricerca di consenso e di accordi senza però separarla dalla preoccupazione per una società giusta, capace di memoria e senza esclusione. Una bella conclusione sintetica attraverso il commento di Papa Francesco a questo connubio giustizia e pace. Accostiamo quasi una piccola appendice ma di un contesto molto diverso. È una pubblicazione della Ericsson che bene conosciamo per questi testi di psicologia, di aiuto psicologico di Gabriele Melli. Vincere le ossessioni, capire e affrontare il disturbo ossessivo compulsivo. Potremmo commentare collegandoci ai primi due volumi presentati come trovare la pace interiore in una situazione appunto di disturbo psicologico, non affannarsi, non angustiarsi, trovare un equilibrio vivibile per così dire. Allora ecco vediamo intanto questa definizione del DOC, disturbo ossessivo compulsivo, come sicura intanto l'autovalutazione, non buttarsi giù, non deprimersi e poi cercare di vivere e convivere con i familiari, con gli amici accettando per quanto possibile serenamente questa situazione. Allora vediamo questo quadro d'insieme delle ossessioni che possono essere aggressive sulla contaminazione, ossessioni di tipo sessuale, ossessioni di accumulo conservazione, ossessioni di natura religiosa, ossessioni di ordine simmetria, ossessioni superstiziose e poi altre e la terapia. Dopo le compulsioni di lavaggio e sterilizzazioni, di controllo, di ripetizioni, di conteggio, come affrontare con la possibile serenità e nella comprensione, nell'aiuto dell'ambiente queste ossessioni che si possono e si devono vincere. Continuiamo con una piccola sezione storica da Solfanelli di Luciano Salera e vediamo l'illustrazione chiarissima, la fuga di Garibaldi e il giallo della morte di Anita. Diciamo che Luciano Salera, come molte pubblicazioni della Solfanelli e di Tabula Fati, che sono due denominazioni che fanno capo allo stesso Solfanelli, di Chieti. Tutto il volume si schiera, diciamo così, su un revisionismo storico che contesta la vulgata risorgimentale e quindi contesta, per esempio, il successo della Repubblica Romana, i successi, le vittorie, le conclamate vittorie di Garibaldi e anche in questa fuga, ci sono illustrazioni dei vari protagonisti, anche in questa fuga c'è molto da ridire fino alla conclusione che dopo, appunto, le non gloriose vicende della Repubblica Romana, la fuga di Garibaldi, che non affronta affatto gli austriaci, ma si conclude probabilmente con la soppressione di un Anita morente diventato ormai d'impiccio all'eroe dei due mondi. Vengono riportate, ripetiamo, molte precisazioni storiche, molti documenti, vediamo qui per esempio a sinistra una notificazione di Gorzowski, che era il governatore civile e militare, fino alla conclusione che, insomma, se fosse come potrebbe essere vera, sarebbe l'ennesimo colpo all'eroe dei due mondi che, insieme ai tanti eroi risorgimentali, Cavour, Vittorio Emanuele II, eccetera, che infestano vie e piazze d'Italia, darebbe, insomma, buoni motivi per una revisione storica. Invece, dalla Biblioteca Ambrosiana per i tipi della Bolzoni, dall'Accademia Ambrosiana, Studi Ambrosiani di Italianistica, Milano, dalle cinque giornate all'unità 1848-1861, erudizione e cultura letteraria a cura di Stefania Baragetti. Come sempre, questi volumi raccolgono giornate di studi e sono volumi sempre molto accurati, molto preziosi. ci sono anche delle illustrazioni, ci sono delle composizioni, questa è proprio la sezione illustrata che vogliamo sfogliare, la solitaria rondine Andrea Maffei, patriota, traduttore e poeta. E allora qui ecco alcune composizioni di questo poeta, traduttore, patriota. O fratelli, vi unite ai fratelli, far quest'idra può capi novelli finché guizza sull'italo piano. Senta i colpi dell'italo acciar, sia dall'Alpi al sebeto remoto, solo un cuore, un pensiero ed un voto. E vedremo fra tutti, sovrano, il pennone tricolore oddegiare. Tu sei pur bella ed infelice all'Italia, perché tanto infelice è ancora più bella. Oh quante disventure età son corse, da che sei fatta di reina ancella. E qui il poeta, il pittore emblematico del Risorgimento, Francesco Aies, l'ultimo abboccamento di Jacopo Foscari. E qui ancora Aies, la meditazione sopra l'Antico e Nuovo Testamento, intitolato anche la tristezza. Cara angelica donna, in qual pensiero hai tu la sconsolata anima assorta che ti affligge, così che ti sconforta nel più bel fior degli anni tuoi, mistero. E ancora ecco, la meditazione con la tematica di Francesco Aies. Possiamo inquadrare la sua poetica, diciamo così, pittorica, ritratto di Donna Matilde Juva, Spesso nel vagheggiare la peregrina beltà delle tue forme in corvolgea, perché si frale dalla man divina uscire questa gentile opera dovea. E ancora Aies, con il ritratto della cantante Matilde Juva Branca, a cui viene dedicata la desolata. Ecco qui Vincenzo Vela, la desolazione. Poi ancora Lorante, sempre Vincenzo Vela, inquadriamolo. Perché è questo connubio di arti tra scultura, Vincenzo Vela, la preghiera del mattino e poesia. Fino ad Andrea Gastaldi, il prigioniero di Sciglione. Ma diamo un'idea almeno della composizione del volume. E sono questi atti di cui non troviamo l'indice. Vediamo se lo troviamo. Eccolo qui. Milano dalle 5 giornate all'unità. Quindi politica, cultura e religione. Dibattiti su Manzoni. Tenka, il cropuscolo e la dignità della critica. Giuseppe Sommariva. Milano austriaca. E poi Andrea Maffei che abbiamo fatto vedere. Una sezione di storia, letteratura attorno alla prima guerra e al primo dopoguerra. da Giuliano Ladolfi, una fiction, possiamo dire, Stefano Rabozzi, storie d'altri tempi, racconti novaresi. E ripetiamo, tra storia e invenzione, questa vicenda di un coscritto che deve partire, giovanissimo, di cui arriva la notizia della morte in guerra, ma che per fortuna riesce a riportare la pelle a casa e felicemente riabbraccia la sua famiglia. Un romanzo breve o un racconto lungo, se preferite, con questa conclusione felice di questo coscritto che torna a casa. Invece la Biblion editrice Luigi Fenga, Golia, marcia del fascismo di Borgese. Eccolo qui, Borgese, in immagine, che pubblica questo Golia, marcia del fascismo ed è un fiancheggiatore che pretende di essere critico del sistema fascista subito dopo la marcia su Roma e il primo insediamento e i primi problemi con la stampa libera, eccetera, per cui lo stesso Borgese è costretto quasi a prendere un po' le distanze da un regime che come tantissimi aveva usannato e quindi dover discolparsi, dover giustificarsi nel dopoguerra. Borgese ritorna in Italia nel 1948, ma se finalmente non è l'Italia che ha conosciuto e che ha abbandonato è purtroppo un'Italia che gli riesce difficile da conoscere, insomma fuori posto prima e dopo. Dalla Olschi, per l'Accademia delle Scienze di Torino, il fondo Paolo Boselli e la Grande Guerra, a cura di Paolo Francese, presentazione da Alberto Conte. Paolo Boselli è stato, vediamo qui un'immagine, Paolo Boselli, una fotografia del settembre 1920, quindi all'indomani della Prima Guerra Mondiale, durante la quale per un periodo è stato Primo Ministro. Quindi ha dovuto affrontare alcune vicende della Prima Guerra Mondiale, la sostituzione, ricorderete, del comandante in capo da Cadorna a Diaz e qui il carteggio e il processo che ha dovuto affrontare dopo la guerra per doversi discolpare da colpe che gli venivano imputate. Veniamo a una sezione letteraria in questo panorama. Ignazio Silone di Giulia Paola di Nicola e Attilio Danese, una coppia, marito e moglie, Ignazio Silone percorsi in una coscienza inquieta ed è un loro conterraneo da Effata Edizioni. Quindi, percorsi in una coscienza inquieta, descrive bene questa biografia che segue passo passo le vicende di questo scrittore, giornalista, uomo d'azione che attraversa varie situazioni di impegno politico, di lotta, deve riparare all'estero, deve liberarsi. Tra i capitoli di questa lunga biografia, l'incontro con Don Orione. perché la famiglia di Ignazio Silone viene colpita dal terremoto del 17 negli Abruzzi e in quella occasione incontra Don Orione che lo aiuta. Poi ci sono altri incontri quando Ignazio Silone ha fatto la scelta del comunismo, della sinistra, non abbandona la religione cattolica della sua famiglia e Don Orione che gli si mostra sempre benevolo e cerca di aiutarlo anche quando Ignazio Silone deve difendersi dalla persecuzione politica e poliziesca fino alla fine della guerra mondiale, al rientro e anche il suo matrimonio e la sua eredità letteraria. Da Zambon, di cui abbiamo presentato altri volumi, sempre in linea con una scelta di sinistra, senza sé e senza ma, come si dice e che per noi rappresenta i limiti di questo tipo di edizioni, Che Guevara e i suoi compagni, uomini della guerriglia in Bolivia a cura di Enrica Matricoti. E appunto vengono presentati questi compagni, compagni di avventura e di sventura perché alcuni di loro lasciano la pelle come lo stesso Che Guevara, ce ne sono altri che per vari motivi, varie situazioni, o si sono salvati oppure sono figli congiunti dei caduti e qui queste riflessioni, qui abbiamo la compagna Tania che viene dalla Russia, si unisce, possiamo inquadrare, si unisce a questa banda del Che e muore anche lei quando il Che viene catturato e ucciso. Dicevamo, sono compagni di questa avventura del Che Guevara oppure figli congiunti che ricordano. È da Marsilio un romanzo, ripetiamo spesso ma crediamo che non si possa dire meglio, tra fiction e storia di Steve Sam Sandberg, uno scrittore svedese, I Prescelti, un'opera epica, commovente, indimenticabile, scrive il Publisher Weekly. Ecco questo bambino con un orsacchiotto, i Prescelti sono questi discraziati che vengono presi dal regime nazista per farne delle cavie. Erano bambini sottosviluppati o figli di zingari o che venivano a situazioni comunque problematiche e venivano sottoposti a questi crudeli esperimenti durante i quali molte volte morivano. Bambini, esordì il dottor Echelius, vorrei cominciare con ricordarvi perché siete qui. Non so se ve ne rendete conto ma siete dei Prescelti, ecco appunto il titolo, in copertina, in sopra coperti, i Prescelti. Un giorno verrà il tempo del grande Reich tedesco e allora avrete la fortuna di poter crescere nella luce a differenza dei vostri padri e delle vostre madri che sono stati costretti a sopportare il buio e la vergogna. Ma anche voi, bambini, dovete sapere quali sacrifici servono per rendervi degni di questa luce. Non sono solo i nostri valorosi soldati che combattono in Trigea a dover sacrificare la propria vita per voi. Anche voi, che siete i Prescelti, dovete sapere che a un tale privilegio corrispondono degli obblighi. Devono essere stirpati e li estirperemo a costo di strapparveli con il fuoco. Tenere alta la nostra bandiera tedesca è anche un modo per dimostrare il privilegio di appartenere alla schiera dei Prescelti. Un vero Ariano, orgoglioso della sua razza e del suo popolo, considera le regole che vigono in questo istituto come principi guida. Bambini, sappiate che nessuno di voi verrà risparmiato se non aveva prima dimostrato di essere degno nessuno. Heil Hitler. Il dottor Gross, frugare nelle tasche del suo camice bianco ed estrarne una piccola caramella rotonda, poi cominciò a scartarla con lenti e seducenti movimenti del pollice dopo averla liberata dalla carta alzò la caramella tra il pollice e l'indice con cautela come se si trattasse di un oggetto prezioso dopodiché la infilò nella bocca di Julius Becker che la ragione ultima della loro presenza lì dentro era proprio l'ispezione il cui elemento culminante il prezzo da pagare per essere stati scelti era la caramella che il dottor Gross con gran delicatezza metteva loro in bocca e poi si assicurava che lì rimanesse cosicché insieme al gusto dolce e appiccicoso della caramella si sentiva anche il sapore stantio di mani sconosciute che frugavano contro la lingua e l'interno della guance anche Adrian è il protagonista col tempo finì per appartenere alla beata schiera dei prescelti a cui il dottor Gross dava la sua caramella una caramella avrete capito letale e veniamo a un'ulteriore sezione l'ultima per il primo corposo complesso di questi volumi che come sempre vogliono tracciare un panorama tra situazioni di breve pace e di lunghe guerre dalla Edes editrice democratica sarda di Giovannino Piseddu poeti e cantadores della Sardegna storia tradizioni folclore come possiamo vedere già dalla copertina con il nuraghe il suonatore di visarmonica la donna vestita con un vestito tradizionale la chitarra il complessino e allora all'interno abbiamo questi personaggi che fanno storia abbiamo anche alcune composizioni per ricostruire un paesaggio un territorio e i suoi protagonisti che cercano di mantenere vive queste tradizioni dalla AB alfabeta Ferlag siamo in Tirolo e le pubblicazioni sono sia in italiano che in tedesco come in tutto quello che noi chiamiamo Alto Adige e gli austriaci preferiscono chiamare sul Tirolo la Merano dei Russi Russisches Meran vediamo la copertina e Russki Merano un'inquadratura di un palazzo e la scritta in tre lingue appunto in italiano in tedesco e in russo e allora questa la Merano tra 800 e 900 che ospita nobili reali poeti scrittori esuli che dalla Russia a seconda dei vari periodi dall'impero alla rivoluzione all'epoca bolshevica vengono appunto a Merano per vacanza per turismo o come profughi ma naturalmente si tratta sempre comunque di profughi di lusso e qui abbiamo appunto insieme ai protagonisti i luoghi visitati con le loro particolarità molte fotografie e il volume che nella prima parte è in italiano nella seconda parte è in tedesco nella terza parte è in russo per chi ama le lingue è anche un buon esercizio linguistico e per concludere questa prima ricca sezione da Bordeaux questo fluviale Roma di Emile Zola non è il meglio di Zola Zola è uno scrittore che tra fine ottocento e inizio novecento si segnala per una scrittura essenziale realistica il mondo degli emarginati dei poveri delle classi subalterne con la rivendicazione di raggiungere uno stato di benessere Emile Zola che lodevolmente ha avviato un movimento in difesa di Dreyfus ingiustamente condannato in realtà solo perché è ebreo e il titolo era uno squillante coraggioso j'accuse io accuso io accuso la giustizia la ingiustizia militare che poi portò in effetti sia pure dopo molte sofferenze alla liberazione di Dreyfus ecco Emile Zola va a Roma e questo è un romanzo che intreccia un lungo diario le sue peregrinazioni attraverso i quartieri le strade i monumenti di Roma è una poco probabile storia d'amore per vivacizzare un po' il romanzo per la storia non riuscì a farsi ricevere da Leone decimo terzo perché Zola stava all'indice per i romanzi veristi di cui abbiamo parlato e ripetiamo il romanzo che segna anche un diciamolo fallimento letterario perché c'è di meglio nell'altra produzione di Emile Zola dunque Roma di Emile Zola da Bordeaux da Alfabeta Lamerano dei Russi in tre lingue italiano tedesco e russo Poete Cantadores della Sardegna dalla Edes editrice democratica da Marsilio i prescelti un titolo tragico perché erano prescelti per gli esperimenti dei nazisti che portavano quasi sempre alla morte di Steven Sandberg c'è che vara i suoi compagni da Zampon che è un'editrice di sinistra senza sé e senza ma una coppia marito e moglie Giulia Paolo di Ricoli e Attilio Denese con questo bel profilo di Ignazio Silone percorsi una coscienza inquieta e fatà con bei capitoli il suo rapporto di Ignazio Silone con Don Orione da Olski il fondo Paolo Boselli della Grande Guerra perché Paolo Boselli è stato primo ministro nel periodo della Grande Guerra e poi dopo dovette difendersi dalle accuse Golia Marce del Fascismo una pubblicazione di Borgese fascista dalla prima ora poi pentito una lettura analitica da Biblion e da Giuliano Ladolfi un romanzo un racconto lungo di Stefano Rabossi storia ad altri tempi racconti Novaresi un un giovane che viene richiamato alla prima guerra mondiale riesce a tornare a casa dalla Bolzoni Milano dalle 5 giornate all'unità 1848-61 erudizione e cultura letteraria e abbiamo ricordato fra i molti interventi che ricordano appunto l'ambiente letterario si parla anche di Manzoni ci siamo soffermati su un capitolo dedicato in modo particolare a Andrea Maffei patriota pittore e poeta da Solfanelli la fuga di Garibaldi e il giallo della morte di Anite come molte pubblicazioni della Solfanelli e della tabola fate di Chieti sono due denominazioni che fanno tutte e due capo a Solfanelli abbiamo detto come molte pubblicazioni di queste case editrici sono una rivisitazione del mito del risorgimento qui viene smontato l'eroe dei due monti e si accenna con qualche documentazione che lascia veramente perplessi alla possibile soppressione di una nita morente ormai fastidiosa eravamo partiti da queste due pubblicazioni delle Dioniane di Bologna e di Angelo Mali dall'atlete incatenato al campione celeste facciamo vedere ancora una volta la copertina così abbiamo modo anche di ricordare che una pubblicazione dei supplementi alle riviste bibliche dell'associazione biblica italiana escatologia e metafora agonistica nella lettera ai filippesi a cui abbiamo accostato di Giuseppe dei Vigili il sogno di Dio giustizia e pace si baceranno con un breve profile dall'antico al nuovo testamento a cui abbiamo accostato questa pubblicazione della Ericsson Gabriele Melli che convincere le ossessioni aiuta a capire ad affrontare il disturbo ossessivo compulsivo e concludiamo davvero come dobbiamo fare con questa pubblicazione della Carocci di Stephen Nadler e Ben Nadler eretici i meravigliosi e pericolosi inizi della filosofia moderna meravigliosi perché si apre un mondo di scoperte di grandi autori artisti pericolosi perché molte volte non vengono capiti e vengono condannati ecco si comincia con il 1633 Giordano Bruno e a mano a mano Leida 1648 quindi siamo a Descartes e Spinosa molte volte questi autori questi eroi questi filosofi questi artisti si incontrano e queste vicende vengono così avvivate con questi con questi fumetti e a mano a mano vengono anche indicate vedete per esempio verso il 1670 mentre gli ideali olandesi di libertà e tolleranza erano minacciati dai politici conservatori e dai loro alleati religiosi Spinosa accantonò l'etica l'opera precedente per comporre il trattato teologico politico e quindi conosciamo questi autori conosciamo le loro opere Leibniz e quindi ci spostiamo alla Germania coniò il termine teodicea per risolvere questo enigma filosofico cerchi nel posto sbagliato questo mondo migliore non è qualcosa di visibile e via di questo passo ripetiamo questi autori questi filosofi questi teologi questi martiri anche Cambridge e Londra 1650 fra altri personaggi notissimi un personaggio crediamo non solo a noi ma a tutti meno noto Lady Anne Conway era una filosofa inglese chi era Costey poiché le donne non avevano accesso all'università studiò filosofia attraverso la corrispondenza con Henry Moore che invece è piuttosto noto Londra 1689 e andando avanti facciamo questi altri incontri con John Locke in questo caso altro filosofo notissimo fino alla conclusione che noi affidiamo come sempre al vostro divertimento e alla vostra lettura con il consueto e cordiale augurio di buona lettura grazie arrivederci grazie